Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ok? Le figa rosse grazie. Bello, bro. Cioè, bello o mica troppo? Cosa vuoi? Amico, come ok va bene. No, voglio alcolo. Hai del cibo dietro? Tu hai di burger? Cos'hai di burger? Ah, ma pensavo che ci avessi l'oro. Sì. Quanto soldi vuoi? No, no, ho già pagato. Come niente. Però non urlare. No, no, shh. Come niente. Grazie, bro. Cosa sta succedendo? Stanno andando al cibo gratis, bro. Stanno andando al cibo gratis. Sì, sì, stanno. Questo per il cliente. Ah, ok. Questo per voi. Non è... Non c'è niente, bro. Il cibo è 100 euro. Io ho mangiato solo il patate. La mangia anche tu, amico. Siedi con noi. Siedi con noi. Ma tu sei... Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo è un dono? Prendi, prendi, prendi. Prendi, prendi. Oh, c'è un donut. Come qui cazzo? Come qua. Omar. Buonora. Buonora. Buonasera. Raga, lui è Omar il capo Maranza. Quello della chatri social. Oh, grazie. Allora, ascoltate. Siete stati anche invitati per due secondi o due minuti al Mojito, al tavolo privé Segui un minuto Ah io seguo voi Segui noi Segui noi Alicante Pera 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 And Alicante Pera 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 And Sorry bro No, it's ok Sorry bro Come si dice, ti siamo vicini We are with you Sorry bro No, no, it's ok, it's for her Good night You too Good night Ok, I'll never ask anyone because it's a candle Bro Eh, well, we've asked, oh my god This night with gold and gold and gold of every type bro Also those packs Then we'll go to buy gold We'll sell it Let's go Oh, they can, maybe they do the gold Ninja, the handicapped Eh, infatti, esatto Eh, infatti ragazzi cosa abbiamo, cosa abbiamo detto Cristo Dio, l'abbiamo beccati eh Fica, l'abbiamo beccati subito raga L'abbiamo beccato quelli cattivi pure Il bonus, finire il bonus Vedere che c'è la max win E scappo direttamente io, no? Vabbè Per il resto vorrei che, cioè veramente Mi sembra un atteggiamento un po' infantile Più che altro perché ci abbiamo giocato sempre insieme Cioè, non capisco adesso quale sia il bisogno di dover scappare Eh, piuttosto me lo facevi presente Ti incazzavi Ti incazzavi Non ti vengono troppo a rompere le balle Se rubi quella, se rubi quella col diamante che già magari vale come un millino È troppo Quelle che stanno sui 200, 300 Dici? Allora le scavallo tutte Grazie, buona serata Prenderà dentro al McDonald? Ma teoricamente non è segnalabile il fatto che lui mi abbia struffato dei soldi in stream Anche se non sta sul suo canale Non lo so Comunque l'ha fatto su Twitch Non lo so Chiedo raga a voi Vogliamo fare un Ave Maria? Certo Ave Maria Piena di grazie al Signore con te Sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del Seu Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte Amen Ma che fanno Oh eccoli Raga andiamo a fare le collanine sul lungomare Raga Raga Voi mette collanine? Fatemi vedere Belle raga Belle raga Non hai capito La foto di squadra La foto di squadra La foto di squadra Facciamola La foto di squadra Assemola Minchia Vai ragazze però veloci eh Molto buono caro Veloci veloci Non è che tutta la sera ragazze Cioè dai veloci Una star come me Deve andare anche divertirsi Anderò che passo al Bulma Posto Grazie però Grazie a voi raga Bella raga Divertitevi Cosa? Il vino Il vino Mica ha decantato benissimo Ciao Ciao 102 102 Uhhh 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 Viva il Calabria Uhhh No scusate sto scherzando No Alzala Che merda bro Eh vabbè Però c'è qualcosa di interessante C'è qualcosa di veramente interessante Vai sulla sinistra Vai sulla sinistra Ma porco demonio Vado via Ti prego il 150 Noo Ti prego Ho il 200 IEES C'è IEES 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 Cazzo IEES IEES IE I meeting He I hon Uhhh IE Sto bene, sto bene, sto bene, sto bene, poi sto bello in centro a Milano, sto di fianco alla metro, bro, meglio di così, che cazzo voglio io, che cazzo, che cazzo posso volere di più io, che cazzo posso volere di più io, ditemelo, comunque grazie. Mi è esploso internet sull'altro telefono, soprattutto Matteo mi ha bloccato su Instagram, non sto scherzando raga. Grave, bro, eh? Grave, dal nulla, gratuito. Grazie Matteo Saba! Ringraziamo Matteo Saba! Grande, grande Matteo, grazie! E il fanculo Social Boom! No, c'ho Social Boom! Tuo padre, bro, è più content creator di te. Scusami, eh, no, però... È una cosa bella. No, sì, 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 è più showman. Sì, esatto. Ma diventa anche tu uno showman. Lo segui io Social Boom, perché c'è un po' di più? Perché mi ha scoppiato la testa quando a sentirlo parlare. Parla solo di business. Parla solo di business e soprattutto... E che business? E soprattutto è business che a me non piace. Perché io preferisco fare business in maniera legale e non con i turchi... Io mi dissoggio! Social, basta! Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Io da quando mi sono autoescluso sono più sereno. Hai fatto bene, Commando, ad autoescluderti? Devo essere sincero. Sai solo che hai fatto bene. Potremmo tornare a galla Potremmo tornare a galla Basta che non mi laghi Corso di un Dio Ma voi la stream lagga o vi lagga solamente lo schermo nel gioco? Cioè avete problemi anche con la stream voi? No porco Dio però E come cazzo faccio? 3-7 Volevano sabotarmi sti figli di puttana Volevano sabotarmi sti bastardi E invece col cazzo me lo possono succhiare Me lo possono succhiare Me lo possono succhiare Però porco giuraci muoviamoci porco Dio Dai la pommi tutto bene dai Sono contento ragazzi Purtroppo ho stato tutto il giorno a fare il trasloco E minchia mi sentivo male vi giuro Però sono contento di aver sistemato tutto Sono contento di aver sistemato tutto Ed essere riuscito già a subito No è che mi manca la droga in questo momento Non è vero Non ho bisogno di droga per stare bene ragazzi Non ho bisogno di droga per stare bene Io sto bene anche da solo Cioè non da solo sto bene anche senza droga Ragazzi comunque io oggi volevo fare all'inizio un attimo un po' di reaction Perché ci stanno un bel po' di video Oh Dio No devi correre Devi correre Mannaggia a te Mannaggia Ma mannaggia a te porco Dio Ma dovevi correre Ma per una volta dovevi spingere Mannaggia a te Va bene va bene Va bene Calma Gabriele Calma 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 Calma